Non è facile scegliere... La cosa più importante per fare doppiatore è fare l'attore, cioè non si impara ad essere doppiatori, si impara ad essere attori. Oh bravo Gabriel, sei stato velocissimo! La cosa più importante da fare è andare in una sala di doppiaggio e copiare il lavoro dei bravi professionisti, dei bravi doppiatori. Ti ha un mestiere, comunque va imparato il mestiere, ma se hai un po' di immaginazione io penso che ce la possa avere chiunque e lasciarsi andare, giocare, aver voglia di divertirsi e di buttarsi. Che sbaglio! Facciamo un altro giro! Spongebob dice sempre una cosa, sono pronto, sono pronto, sono pronto! Sono pronto, 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 pronto! Sì sì, quando vado in giro qualche volta mi capita di parlare con i personaggi che ho doppiato. Sì sì, quando vado in giro qualche volta mi capita di parlare con i personaggi che ho doppiato, sono pronto, 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 sono pronto. Grazie! Grazie!